C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età, quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore mentre la mente non smette mai di sognare. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!